Nella terza edizione di Welfare Index PMI aumentano le imprese che partecipano alla ricerca e al rapporto, emerge con forza l'effetto sulla produttività aziendale e sulla soddisfazione dei lavoratori se l'imprenditore organizza attività di welfare aziendale nell'ambito della propria azienda ed emergono tre aree che sono le più gradite nell'iniziativa di welfare aziendale. La prima è quella della sanità e dell'assistenza perché il luogo di lavoro diventa un luogo dove si può promuovere la salute dei dipendenti. La conciliazione vita-lavoro perché la generazione di chi lavora oggi è compressa tra figli ancora da accudire e spesso genitori anziani. Quindi questo genera un impegno nella vita familiare che necessita di essere conciliato con il lavoro perché possa essere serena la partecipazione nel posto di lavoro pur mantenendo tutto quello che serve di aiuto alla famiglia. Allora qui il lavoro flessibile, lo smart working, gli asili nido, convenzionati e tutto quello che aiuta l'equilibrio tra vita aziendale e vita professionale è molto molto gradito. La terza cosa che serve molto agli imprenditori delle piccole e medie imprese è avere dei servizi perché le grandi imprese riescono a organizzarli da soli, le piccole imprese invece non hanno la dimensione sufficiente. Allora Generali Italia ha fatto nascere una nuova società, Generali Wellion, che nasce apposta per poter offrire alle piccole e medie imprese servizi sofisticati come quelli della salute, dei check up in azienda ed altri in questa filiera che aiutano le piccole e medie imprese a risolvere questi problemi di welfare per i loro dipendenti.